te l'ho detto, se ritornerò, io ci sarò allora, vai Marvi, questo è un gioco di sicuro, questo è proprio un ventanismo, un po' di cerco tu vedi le carte di mezzo, ma tu sei una, quella che vuoi più ce l'hai un'ora pure, ce l'hai un 25% no, però non è qui ce l'hai, ce l'ho bene, è vero noi c'è la parte destra, non ce l'ho fatta ok, ci sono così ti credo è finito no, dico, si, un gioco di fiori interessante oh, no, 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 no c'è la scuola di creazione della tua nuova seduta del cervelletto questo ora te l'ho scogliato che sia un po' cioè, tagli un po' che è molto veloce veloce per me ok, in te, ci sono tanti di coppia ma è sicuramente un altro pezzo se spera di tomar che ti dici non pensiamo a 9 in quadra non puoi non sto comando ma è 9 in quadra qual è? interessante se vorbe quello che ti dici però che ti dici che ti dici